Da lei c'è una dimostrazione esemplare delle difficoltà del nostro lavoro, un tifoso salta per l'emozione davanti alla telecamera che è fissa e con lui salta anche la documentazione del gol di Re. Ecco invece il 2-0 con l'abile calcio d'angolo di Merlo, il tifoso questa volta non ce l'ha fatta. Grazie a tutti.